La soddisfazione per noi è immensa perché intanto per la prima volta nella nostra storia questo finanziamento, l'insieme dei finanziamenti che i singoli ricercatori sono stati in grado di andare a vincere con dei bandi competitivi ha superato la quota di finanziamento corrente standard che ogni anno il Ministero della Salute ci attribuisce. Quindi onore al merito dei gruppi di ricerca che sono stati in grado di vincere questi bandi. Altra grande soddisfazione per noi è che più della metà di questi finanziamenti che sono stati vinti su bandi competitivi sono stati vinti da giovani ricercatori perché mi piace poter dire che abbiamo un gruppo di giovani talenti straordinari che sono stati tra l'altro in grado di mettersi in rapporto in relazione con altri gruppi di loro omologhi a livello nazionale e internazionale perché fare rete è il modo per andare in rete in qualche maniera come si può dire per fare gol collaborando con gli altri.